I 5 progetti alternativi ad Ethereum che vincono sulla regina delle cripto e che sono il top per il 2021 ma non scelti da me, non scelti da qualcun altro, non in base a chi, in base a cosa, ma in base al mercato Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e oggi andiamo a parlare della regina delle cripto di quelle che sono le alternative per la regina delle cripto e che possono sovraperformare ETH perché c'è anche una questione che non abbiamo mai affrontato sul mercato, anzi sul canale ragazzi e cioè questa, ma se io ho gli ETH che faccio? Mi tengo gli ETH come investimento oppure posso anche fare un change in un altro altcoin che magari sta facendo concorrenza ETH e poter sovraperformare o attendermi una performance maggiore aumentando i miei ETH, avete sentito Brenner, poi perché poi con l'obiettivo di incrementare i miei ETH lo facciamo già con BTC, lo facciamo già facendo trading e investimento di BTC contro le altcoin ma si può fare anche perché no contro le altcoin ma partendo dai nostri ETH, Ethereum, la regina delle cripto allora quali sono però i progetti secondo il mercato ragazzi che sovraperformano ETH che sono migliori in base a quello che il mercato oggi sta dicendo poi non migliori in base a quelle che sono le questioni software, il futuro insomma il futuro poi nessuno lo sa ovviamente ragazzi ma in base a quello che il mercato ci sta dicendo ragazzi secondo me queste coin in questo momento sono più performanti di ETH è possibile? Non possibile? C'ha ragione il mercato, il mercato sul lungo periodo ha sempre ragione e allora perché no? Proviamo a scoprire cosa pensa il mercato e magari anche a fare i nostri conti ma prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale perché siamo arrivati ai 30.000 aspetta che ve lo rifaccio, 30.000 grazie abbiamo fatto una settimana alla ricerca di questo traguardo per il canale sono contentissimo ma ho già davanti a me questi che sono i super grafici che andremo a guardare quindi non mi dilungo ragazzi ok? Come sempre poi in ogni caso lasciatemi il mi piace perché mi aiutate con il canale allora ragazzi cosa ho fatto per creare questo screening delle concorrenti di ETH e poi andremo anche sul grafico a capire come ho scelto le mie top 5 sì perché alla fine del video vi presento quelle che sono secondo me i 5 progetti top in base però a delle regole che non è l'analisi del progetto quindi lo studio del work paper perché ragazzi sì sicuramente interessante è il top sicuramente però è anche vero che è una previsione di un qualcosa che non è mai avvenuta quindi proviamo invece a fare una cosa proviamo a capire che cosa stanno scontando questi progetti da parte del mercato cosa ne pensa il mercato e poi andiamo a scegliere le mie top 5 in base al criterio di linearità del trend e di analisi dei dati ragazzi la prima cosa che ho fatto ho creato uno screening utilizzando tutti i concorrenti di ETH quindi solo settore smart contract platform dopodiché sono andato a prendere le coin che hanno una capitalizzazione superiore al miliardo per mettere ETH nei confronti di competitors che abbiano comunque almeno un minimo di capitalizzazione ragazzi ok fatto questo ho scelto e vi faccio vedere poi quelle che hanno performato meglio all'interno dell'anno e poi facciamo una serie di conti allora intanto ve le presento perché sono comunque una decina di progetti non è che sono pochissimi quindi andiamo lì a guardare poi ci spostiamo sul grafico li analizziamo tutti analizziamo i trend e poi vi dico quali ho scelto io come la top 5 e vi faccio anche la classifica di progetti contro ETH allora ragazzi questa è la classifica change verso ETH delle altcoin che vi ho come vi ho spiegato ragazzi quindi come scelte da me quindi sono su una market cap superiore al billion quindi al miliardo ragazzi vince contro ETH Phantom per quanto riguarda quest'anno quindi il divario con ETH del 1110% secondo posto alla super vet che entra anche nella nostra top 5 del progetto weekly super pump ragazzi che tra le altre cose se non avete visto il video di domenica scorsa andatevelo a vedere perché il weekly super pump di domenica scorsa sta facendo i numeri quindi ragazzi che vi pusho il link del video sulla mia testa andatevelo a vedere ok fatto questo ritorniamo a vedere gli altri posti quindi abbiamo pet ragazzi poi in seconda classifica Zilliqa One ADA 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 vince contro Ethereum a distanza di un anno perché raddoppia la performance di ETH raddoppia la performance di ETH Cardano ragazzi è vero che partiva da giù ma adesso poi ci spostiamo sui grafici può rientrare Cardano nella top 5 che ho scelto ve lo dico dopo allora andiamo a vedere poi gli altri che sono Stax, IOST, Zen, Wales ed eccola qui Ethereum che poi non è che si classifica male ragazzi ok perché è al nono posto dei settori smart considerando anche però che è leggermente sovracapitalizzata rispetto agli altri ragazzi perché qui parliamo comunque di un progetto da 270 miliardi non da un miliardo quindi una cosa è fare un X1, X2, X3 di un progetto di 200 miliardi di cap ragazzi una cosa è farlo con un progetto da un miliardo quindi questo bisogna tenerlo in considerazione però cosa dobbiamo aggiungere a queste top 9 che hanno sovraperformato Ethereum negli ultimi 12 mesi ragazzi dobbiamo aggiungere quelle che non erano quotate ancora a distanza di 12 mesi e sono Polkadot, Sonana, Avanash, Kusama e Nier allora ragazzi tutte queste vanno aggiunte perché hanno delle performance positive a 90 giorni allora sono riuscito a trovare questo dato quindi le aggiungiamo invece ho escluso da questa categoria tutte quelle che a un anno hanno una performance contro le TH negativa ragazzi ovviamente perché bisogna tentare diciamo in qualche modo di fare la differenza anche se vedete per esempio Quantum ha performato con un più 190% negli ultimi tre mesi però ragazzi allora questo è un video che deve avere delle regole e queste sono le regole adesso noi ci spostiamo sul grafico e andiamo a vedere i trend contro ETH e poi scegliamo le top 5 mi piacciono questi video ragazzi perché sono belli dinamici e perché ci fanno un po' guardare il mercato non soltanto da quello che sono le considerazioni in base a quello che noi pensiamo perché spesso ragazzi quelle cose lì sono opinioni non sono poi dati reali e poi non è anche quello che pensa il mercato infatti ragazzi molte volte molte volte i progetti che magari si ci aspetta facciano i numeri poi alla fine dell'anno non fanno nulla mentre fanno i numeri alcuni progetti che invece nessuno aveva calcolato allora se andiamo a guardare quello che il mercato ci dice e ce lo indica con i dati e beh i dati sono oggettivi ragazzi e quindi non dipendono le nostre opinioni poi è chiaro quando si fa un buon crypto picking in questo caso andando a trovare dei progetti che sono estremamente validi sicuramente vincere contro il mercato è un po' più semplice però non è semplice fare questa cosa ragazzi mentre andare a guardare i dati è una cosa oggettiva andiamo a guardare i grafici allora ragazzi qui abbiamo il primo trend da guardare che è quello di phantom allora vi ho messo anche dei time frame alti per vedere un po' il trend allora phantom ragazzi allora con 3th andiamo anche a fare una leggera analisi trend analisi velocissima ragazzi trend positivo ma è impennato soprattutto nell'ultima parte quindi nell'ultima parte potremmo diciamo valutare anche questa coin nelle nostre top 5 sì e no a me non piace tantissimo ve lo dico già da subito perché il pump l'ha avuto solo nell'ultima parte andiamo a bet ragazzi escludendo le diciamo l'inizio che sono sempre insomma quei e le quotazioni diciamo negli exchange anche qui non mi piace molto il trend di bet contro e th perché fa queste cose a zig zag e voi sapete bene che io prediligo trend lineari per fare le mie classifiche in questo caso il trend lineare secondo me è fondamentale perché quello che mi aspetto non è un atteggiamento a zig zag oppure volatile oppure oscillazione però una linearità verso il lungo periodo perché a noi interessa che la cripto in questione guadagni dopo che l'abbiamo comprata ragazzi non prima quindi non il passato ci interessa il futuro quindi ci interessa l'atteggiamento di un trend di natura lineare andiamo poi a vedere quella che è zillica allora anche qui ragazzi questo è un trend un po' strano e poi se lo vediamo nel lunghissimo periodo un po' ok tutto sommato non è che sia così tanto positivo anzi sembrerebbe un trend laterale ribassista passiamo ad 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 la trovate qui allora trovate anche una campanellina che io ho messo contro e th perché per me è fondamentale ragazzi ad 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 in una super barra di congestione contro e th dalla 2018 in sostanza se riportate livello 2018 ma non ha trend vedete non ha trend ragazzi contro e th e in una barra in una super barra di congestione però questa parte qui ha il trend positivo inutile a negarlo insomma questa cosa poi abbiamo gli ost trend negativo contro e th tranne nel breve quindi questo sembrerebbe un balzo un po' dovuto a una situazione di breve che è piuttosto che di lungo periodo poi abbiamo zen e in questo non mi ricordo se vi avevo detto che c'era anche questa cripto comunque c'è ragazzi anche qui guardate le oscillazioni di queste criptovalute sempre però alla fine in trend negativo laterale negativo non mi piace neanche questa waves per quanto riguarda waves contro e th ragazzi stesso identico discorso ormai l'avete capito e andiamo a vedere solana solana i dati sono pochi perché è un o i dati presente contro th su wabi soltanto da pochi mesi comunque in questi pochi mesi trend assolutamente positivo poi abbiamo dot che invece è presente da un annetto circa quasi ragazzi a parte la prima candela che è la solita candela strana insomma di di quotazione dopodiché ha raggiunto il livello di minimo dalla quale ha iniziato un trend positivo contro ethereum ksm ragazzi stesso identico trend di dot e poi avax con una situazione un po particolare questo pump iniziale poi scontato e poi invece un trend lineare ma guardate come dalla gennaio 2021 tutte queste cripto hanno lo stesso identico trend dot solana ksm avax sono in pratica identiche nel loro trend contro ethereum questo è un fattore rilevante da calcolare e lo vedremo alla fine del video perché c'è una considerazione da fare anche se andiamo a ragionare su questi progetti e poi mi era ragazzi stessa identico discorso allora quali sono i miei top five progetti in base al trend in base a quello che i mercati ci stanno dicendo in questo momento ho un po un dubbio ve lo dico alla fine su quelli che sono le la classifica comunque partiamo dal quinto posto al quinto posto secondo me ragazzi c'è near al pari merito con phantom perché perché hanno un trend che nell'ultima parte è molto importante phantom forse messa un po meglio di near perché qui abbiamo un trend positivo contro eth sembra mantenersi ragazzi ovviamente qual è la questione che non vada giù al minimo per esempio che ha fatto in questa settimana già basta scendere sotto queste medie e ti saluto ciao viva si ritorna in eth quindi questo è fondamentale perché sono coin ragazzi che hanno poco storico quindi non è facilissimo analizzarle così phantom perciò è un po' preferita quindi al quinto posto rispetto a near proprio per questo motivo poi abbiamo il quarto quarto classificato ragazzi che è avax secondo me perché avax ha già un po più storico qualche mesettino in più e sembra avere questo atteggiamento discretuccio anche se lo guardiamo per esempio su un time frame più accettabile però ragazzi che grafici strani quindi fanno questi super pump e poi si bloccano allora perché la metto al quarto posto perché tecnicamente potrebbe essere tradata in maniera facile basta attendere il break di questo livello se lo fa allora io entro se non resto con gli eth quindi è molto semplice quindi quarto posto per avax al terzo posto difficile scelta al terzo posto ragazzi c'è dot dot c'è al terzo posto secondo me da questo punto di vista perché non ha un super trend contro eth si può fare meglio secondo me è ok però se la guardiamo da questo punto di vista ancora è positiva anche qui è facilissimo prendere posizioni di trading basta attendere il break di questo livello si entra long e si attende perché la struttura di questo mercato è veramente semplice guardate qui 1 2 1 2 allora è semplicissimo questo mercato contro eth quindi si può attendere non entrare subito e quindi dot terzo posto andiamo poi a vedere il secondo classificato contro eth secondo me in questo momento è ksm allora ksm ha un trend discreto un po meglio secondo me di dot per il semplice fatto che questa barra di congestione è stata breccata poi ritoccata dopodiché si è infilato in un trend rialzista ancora una volta ragazzi è facilissimo anche qui basta attendere questo break al rialzo eventualmente rientrare vi faccio notare che nel breve tutte queste coin hanno un atteggiamento contro eth ve lo dico tra poco perché questa cosa è cosa farò io però poi andiamo a vedere eh sì esatto il podio ragazzi il primo posto solana vabbè vabbè ormai lo sapete che è una delle mie coin preferite l'ho inserita diciamo in tantissimi video solana è il top perché ha un trend bellissimo contro eth ragazzi il più bello forse di tutti ce l'ha solana è anche vero che nel breve periodo ada non ve la molla ragazzi ve lo faccio vedere guardate nel breve non ve la molla però ha fatto poi questo pub poi ha ritracciato solana invece ancora continua nel suo trend bellissimo contro eth e di breve periodo quindi solana vince però ragazzi andiamo alle conclusioni del video le conclusioni sono queste qui allora tutte queste coin che abbiamo visto hanno performato positivamente contro eth da gennaio quindi 4 5 mesi massimo non di più perché ragazzi questa cosa qui sono state molto forti contro eth per via del problema delle gas fee allora tutto chiude il cerchio ragazzi è abbastanza semplice questa cosa perché nel momento in cui eth probabilmente sistemerà la questione delle gas fee questi trend non è detto che continuino in questo modo allora abbiamo fatto un video dove vi dicevo che eth era il red che sostanzialmente ovviamente era sempre bitcoin ci mancherebbe ok ragazzi però nel momento in quel video vi avevo detto eth raggiunge i 2.000 e 4 50 per aprile tac è stato fatto la perfezione però vediamo nel video di analisi tecnica dei mercati è stato raggiunto anche quel massimo ok 10.000 sono un po troppo perché la cap veramente di th sarebbe stellare però ragazzi se th risolve col 2.0 però è la gas fee probabilmente questi progetti nel futuro perché l'investimento ragazzi si fa verso il futuro non è detto che performeranno così quindi attenzione tenete a mente i livelli che io vi ho fatto vedere fate scroll quindi dietro quindi il rewind come si diceva del video vi vedete quei livelli ragazzi perché sono fondamentali oppure se volete entrare fate la prova ma se per caso cambia il mood questi trend probabilmente che abbiamo visto contro eth non è detto che continuino anche per il prossimo anno cosa sto facendo io io ho agganciato un sistema un train system che prende in esame tutte queste cose che abbiamo visto anche nel video e che gestirà le mie posizioni di eth contro i rivali ma vi darò news stratosfericamente importanti nei prossimi giorni anche da questo punto di vista bene allora ragazzi qual è la vostra preferenza invece qual è la vostra smart contract platform sector che secondo voi vincerà contro eth nel 2021 scrivetemelo nei commenti poi vedremo fra un annetto chi avrà ragione ciao a tutti ragazzi ciao a tutti